E' iniziata oggi nella sede della Fondazione l'esperienza della Presidente Marialina Marcucci alla guida del Carnevale di Viareggio. Alla prima seduta del Consiglio di Amministrazione erano presenti tutti i componenti del CDA, Presidente, il Vice Presidente Marco Zoreni, i consiglieri Klaus Davi, Monica Guidi e Stefano Nari. La prima riunione è stata l'occasione per conoscersi, avviare il lavoro di organizzazione della prossima edizione del Carnevale e studiare le iniziative di promozione e valorizzazione della manifestazione. Sempre in tema carnevalesco e fedele alla promessa che aveva fatto durante le riprese, Paolo Virzi sarà a Viareggio venerdì 20 maggio per presentare ufficialmente La Pazza Gioia, ultimo lavoro del regista, sceneggiatore, produttore toscano, considerato uno dei più importanti narratori per lo schermo dell'ultima generazione del cinema italiano. Il film sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes sabato 14 maggio e avrà la sua presentazione ufficiale a Viareggio organizzata dal Comune e dalla Fondazione Carnevale venerdì della prossima settimana 20 maggio. Al cinema teatro Eden della città ci sarà il regista Paolo Virzi che alle 20 e 30 introdurrà la proiezione del film accolto dal sindaco del Ghingaro e dalla neopresidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci. Il regista livornese ha scelto Viareggio, il suo mare e il Carnevale per ambientare alcune delle scene della storia di Beatrice e Donatella, ovvero Valeria Bruni tedeschi e Michele Ramazzotti, due pazienti psicotiche con disturbi mentali. Il film ha avuto come set il Carnevale di Viareggio dove sono state ambientate alcune scene in occasione del quarto corso mascherato del 2015 e aveva come quinta i capolavori dei maghi viareggini sistemati sul lungomare in piazza Mazzini per la sfilata pomeridiana.